Ciao da Daniele e Ambra! Oggi siamo a San Gimignano che si vede qua dietro, che è una delle tappe della Francigena fra l'altro. Non ci passeremo durante il nostro viaggio che stiamo preparando, però è una grande tappa, un paese molto famoso in Toscana, uno dei più famosi e piccolino, ma è sempre ogni anno un'attrazione di tantissimi turisti e siamo qui perché non per fare un giro turistico, che abbiamo già fatto un sacco di volte, ma perché andiamo all'ufficio turistico e prendiamo la credenziale del pellegrino, che è un documento, è come un passaporto del pellegrino, che serve a identificarci come pellegrini appunto durante tutte le tappe, durante quando andiamo nei ristoranti, nei bed and breakfast convenzionati, oppure nelle strutture proprio di accoglienza dei pellegrini. E riceviamo così sconti, agevolazioni. Sì, ci metteranno proprio i timbri sopra e così alla fine quando arriveremo a Roma potremo ritirare il certificato, diciamo, finale. Sì, questo certificato si chiama Testimonium e sono proprio curioso di vederlo. Per ritirarlo bisogna avere sulla credenziale i timbri delle tappe degli ultimi cento chilometri circa della Francigena, quindi più o meno bisogna essere partiti da Viterbo e averla fatta in direzione sud. Ce la faremo dai! Insomma, partiamo da Siena e quindi dovremo passare da Viterbo e fare gli ultimi cento chilometri. Quindi adesso siamo fuori le mura, saliamo insieme, andiamo nella piazza centrale a prendere questo documento e vediamo come sarà. Vai, venite con noi! Grazie a tutti! Eccoci, abbiamo preso le credenziali e adesso ve le facciamo vedere. Tadà! Ecco qua il nostro documento di viaggio da compilare naturalmente. Poi c'è lo spazio, questo è lo spazio per i timbri, a fine ogni tappa ci sarà un luogo come l'ufficio informazioni oppure qualche altro posto dove ci saranno dei timbri da mettere qui per certificare il nostro passaggio ad ogni tappa e poi alla fine quando arriveremo a Roma sarà, questo sarà controllato e se va tutto bene ci rilasceranno il Testimonium. Sfoglia un po', vediamo. Poi sono tutte le pagine per i timbri. Vediamo cosa c'è che ancora non l'abbiamo sfogliato. Da notare che si può fare anche in treno la Francigena. Anche in treno, è vero. Sì, alcune tappe non sono molto raggiungibili in treno comunque. Non so, non l'abbiamo controllato il percorso in treno, non so che cosa prevede sinceramente. Questa è la mappa totale da Canterbury a Roma e poi che continua anche fino a Santa Maria di Leuca il proseguimento della Francigena. Quindi idee di viaggio per il futuro. Se vogliamo partire da Canterbury. Sì, sì. Sfoglia un po', vediamo. Sì. Altri timbri ancora? Ancora spazio più di timbri. Eh, perché sono parte da Inghilterra. Eh, infatti, sì, sì. Magari ne ha bisogno di più di una di queste credenziali. Ah, ecco, guarda. E poi un po' di informazioni storiche sul viaggio del dell'Arcivescovo Sigerico che annotò le 79 tappe. Il viaggio, cioè quello che poi documentò e scrisse il diario, se non sbaglio era da Roma verso Canterbury, quindi al ritorno. Esatto. E le tappe attuali sono ancora quelle che ha scritto Sigerico nel suo diario. Sì, sì. Vediamo, andiamo avanti. Eh, qui c'è il testimonium. Ah, ok, è vero. Sì, questo è il testimonium, ok. Quindi sarà fatto così. Riceveremo questo, bene. Sì, sì. Che incorniceremo in casa. Eh, sì, sì. E basta. Poi, ah, ok, era la fine. Sì. Poi ci sono un po' di informazioni. Bene, ok. Quindi questo lo custodiremo gelosamente nei nostri zaini durante i nostri circa 13-14 giorni di viaggio. E ok, adesso l'abbiamo presa. Lasciamo questo splendido panorama di San Gimignano e torniamo... e torniamo a casa. Per oggi è tutto. Vi ringraziamo per aver guardato questo video. Se vi è piaciuta questa nostra prima missione, cliccate mi piace e iscrivetevi al canale così vedrete tutte le nostre prossime avventure. E attivate la campanella di notifica così riceverete un messaggio quando ci sarà un nuovo video. E ci vediamo presto. Ciao! Ciao!